Ciao! Immagino che anche tu abbia voglia di vivere un po' più rilassata e serena e non avere il controllo e il conteggio delle calorie ogni giorno per vedere che cosa introduci e che cosa consumi. Quindi ho deciso di guidarti con l'utilizzo dell'FT, questa meravigliosa tecnica che utilizziamo per rilasciare le emozioni e rilasciare questi pensieri negativi e pensieri ossessivi per fare in modo di portare più consapevolezza e rilasciare ciò che magari ti sembra corretto tenere, perché magari ti sembra in questo momento mantenere il controllo delle calorie sia per te indispensabile. Ma vediamo che cosa esce, quindi se già conosci la tecnica sai già che inizieremo a picchiettarci i punti. Se non conosci la tecnica ti invito a seguire magari negli altri video dei punti dell'FT e di che cosa si tratta, perché magari troverai un po' stupido l'idea di picchiettarti, ma abbi fede in questo processo e permettiti di sperimentare. Quindi mentre stimoli il punto karate inizi a pensare a quanto impegno e controllo ci metti ogni giorno per appunto conteggiare le calorie. E poi ripeti insieme a me. Scusa, intanto questo controllo prova a valutare da 0 a 10 quanto è vero per te questo, quanto controlli le calorie di tutte le volte di tutti gli alimenti che mangi durante il giorno, valutalo da 0 a 10 quant'è. Anche se sono quasi ossessionata dalle calorie che mangio e che brucio, io scelgo di accettarmi e amarmi completamente e profondamente. Puoi cambiare un'altra mano, fai un respiro profondo, anche se devo per forza mantenere il controllo delle calorie, altrimenti rischio di andare fuori e poi non dimagrisco. Io scelgo ora di amarmi profondamente e di accettarmi così come sono. Respira, anche se non posso cambiare questo comportamento, perché se non mantengo il controllo rischio che tutti i miei progressi possano svanire. Io mi amo e mi accetto così come sono e accetto questo mio comportamento che ho imparato nel tempo. Inspira ed espira. Ascolta il tuo corpo e ascolta che cosa, quali sono i pensieri che ti sono venuti in mente e mentre eseguiamo tutto questo processo mantieni l'attenzione a ciò che emerge nella tua mente. Devo per forza mantenere il controllo. Non posso pensare di non controllare le calorie. Devo fare questo conteggio ogni momento e ogni giorno e mi sto anche ossessionando. Se non faccio questo, non riuscirò a dimagrire. È necessario fare tutto questo se voglio star bene e se voglio dimagrire. Devo per forza conteggiare le calorie. Se non faccio questo conto, non riuscirò a migliorare. Anche se so che tutto questo mi sta procurando molto stress. Inspira ed espira. Valuta in questo momento quanto lo stress è elevato, quanto è ancora vero per te, che sei obbligata a conteggiare le calorie per poter dimagrire, che non ci sono altri metodi. E' vero per te? E ovviamente se ci sono ancora, c'è ancora la visione che è normale, che è giusto, che devi per forza fare questo e ossessionarti così per poter dimagrire, che questa è l'unica soluzione, ti consiglio di procedere e mantenere l'attenzione a quello che sta succedendo dentro di te e ripetere le parole che ti diresti in questo momento. Quindi è ovvio che io debba contare le calorie, fanno tutti così, mi hanno insegnato così, tutti i nutrizionisti, tutti fanno così conteggiare le calorie, tutto quello che ti viene in mente continua a dirlo. Quando ti senti che la valutazione che puoi dare a questo problema, e questa verità che stai attualmente vivendo come una verità che da 0 a 10 è inferiore a una valutazione 6, puoi procedere in questo modo. Io voglio aprirmi la possibilità a un nuovo modo di mangiare. Sono disposta a lasciare andare questo ossessivo calcolo delle calorie. E so che il mio corpo ha una sua sensibilità e posso permettermi di mangiare senza contare le calorie. Posso permettermi di ascoltare la mia fame e fermarmi quando è giusto. sapendo che ho fiducia nel mio corpo e ho fiducia nel suo sistema di regolare la fame. Io ho fiducia nelle mie capacità e ho fiducia nel sistema che il mio corpo mette in atto per regolare la mia fame. mi posso rilassare finalmente e sapere che mi fermo nel momento giusto senza eccedere nelle quantità e sapendo che la richiesta della qualità dei cibi da parte del mio corpo è la più sana possibile. Io mi sento bene nel mio corpo e ho lasciato andare questo controllo delle calorie che mi stava ossessionando. Inspira ed espira e a questo punto prova a valutare se tutto ciò che è stato detto può appartenerti può diventare una tua verità perché in effetti il nostro corpo ha in sé un suo modo di regolarsi quindi la fame se noi mangiamo in un modo lento consapevole mastichiamo bene avremo una fame più pacata più regolare una fame che soddisfa il nostro bisogno di essere nutriti e non non mangiamo per la soddisfazione di mangiare solo esclusivamente per il palato. Questo è il giusto modo di mangiare quindi ti auguro di sperimentare questa traccia di fare in modo che puoi attivare la fiducia in te stessa che anche tu hai questo questo sistema dentro di te e non hai bisogno di contare le calorie di ossessionarti e di ridurre magari drasticamente le calorie o fare dell'esercizio fisico estenuante magari anche senza il piacere di farlo per poter dimagrire perché quella non è mai la soluzione giusta perché il corpo è mai stress e con lo stress aumenti i livelli di cortisolo che tendono a creare accumulo e aumento di peso io ti auguro di praticare FT e di seguirmi nel gruppo rinascita emozionale su facebook dove troverai tanti spunti e tante ricette piuttosto che esercizi per poter migliorare nel corpo e nella mente io ti ringrazio ti do l'appuntamento al prossimo video ciao ciao